Musica Si è tenuta a Teramo presso l'auditorium del Parco della Scienza la conferenza stampa di presentazione del primo torneo nazionale di calcio giovanile One Family Sport dedicato ai nati nel 2011, 2012 e 2014. Gli organizzatori del torneo, il direttore generale della SS di Città di Teramo Romolo del Baptistis, il presidente della scuola calcio Gaetano Bonolis Massimo D'Aprile e il suo socio Luca Di Domenico hanno deciso di investire sul calcio e soprattutto sui ragazzi organizzando questo primo torneo in grande stile. Il primo obiettivo è ricominciare dai giovani dando loro l'importanza e la visibilità che meritano ponendoli al centro di progetti di crescita sportiva e personale creando anche l'occasione affinché possano divertirsi e sfidarsi con un sano agonismo. Luca Di Domenico credo sarà anche l'occasione in questi tre giorni di notare qualche talento in odore di promozione. Guarda Lorenzo, sicuramente mi concentrerò anche a guardare i ragazzi che giocheranno il torneo ma credo che in questo torneo saremo così tanto impegnati nell'organizzazione che magari rimane difficile guardare attentamente le partite e guardare i ragazzi che svolgono le partite. Ovviamente stiamo lì quindi sicuramente guarderemo anche i migliori ragazzi che disputeranno queste gale. Ovviamente tante le società presenti soprattutto a livello professionistico ma ce ne saranno anche tante tra i dilettanti e credo tante abruzzesi e ti chiedo, uscendo un po' fuori dai canoni di questo torneo, se ci sarà davvero l'opportunità di vedere qualche ragazzo non dico già pronto per i professionisti ma con un viatico diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Sì, assolutamente sì. Come dicevamo prima anche nella fase di presentazione è un torneo riservato alle squadre professionistiche, a squadre blasonate, ovviamente che ci danno lustro al torneo, ma è sicuramente l'opportunità per tanti ragazzi che invece giocano nelle squadre dilettantistiche e di mettersi in evidenza perché un torneo di questo portato ovviamente fa sì che sia gli allenatori delle scuole professioniste ma anche tutti gli osservatori che saranno presenti al torneo potranno visionare i ragazzi presenti, potranno visionare anche l'organizzazione delle scuole perché anche quello è importante. Parlavamo prima del fatto dello step che i ragazzi devono fare, quindi è importante anche che poi i ragazzi si allenino in un certo modo, che si allenino con una certa intensità perché come dico sempre anche il talento va allenato, pertanto è importante anche che il ragazzo disputi e giochi con una società importante, con una società che prova a lavorare sui ragazzi, quindi è fondamentale questo aspetto. E soprattutto il confronto anche tra ragazzi che ovviamente vivono città in realtà diverse sotto l'aspetto sociale, questo incrocio nelle strutture che ospiteranno il torneo, anche di confronto credo tra realtà nazionali, Roma, Napoli, Empoli, Bologna e tante altre con la nostra piccola realtà che però credo abbia tutta la voglia necessaria per crescere ancora di più. Assolutamente sì, ma questa è la cosa più bella dello sport e la cosa più bella del calcio, cioè mettere in interazione tante, diciamo anche culture. Io penso che questo torneo possa nel corso degli anni diventare anche di carattere internazionale, questo perché? Perché è bello vedere tanti ragazzi anche di nazionalità diverse, anche di cultura diversa, giocare insieme, divertirsi insieme, quindi è un aspetto veramente bello, è un aspetto che lo sport, in questo caso il calcio, può dare ai ragazzi e può offrire queste opportunità che io dico sempre sono opportunità, sono esperienze che poi ti rimangono a lungo nella vita. Massimo D'Aprile, un altro passo importante, un altro step della Bonolis sul territorio da tantissimi anni, io oramai ho perso il conto, però è anche l'occasione per far capire ai tanti ragazzi, come dicevo con Luca Di Domenico, che per arrivare a toccare un sogno chiamato Serie A, con tanti simboli che qui campeggiano in questa sala a Teramo, ci vuole tanto sforzo, tanto impegno e tanto allenamento, come diceva Luca. Sì, ma è la vita in generale che ce lo insegna, lo insegna a te come lo insegna a me, per fare bene e raggiungere gli obiettivi ci vuole impegno, ci vuole serietà, ci vuole correttezza. La Bonolis si è allenata parecchio in questi anni. Ma io penso che sono dei valori fondamentali nella vita, che i genitori dovrebbero insegnare a tutti i figli, così come tutte le scuole calcio devono insegnare a chi fa calcio, quindi sono i valori dello sport e della vita. Noi facciamo di tutto ogni giorno per lavorare su queste cose e il sogno è il sogno, quindi ognuno lo deve avere e è giusto che ce lo abbia. Poi la vita è fatta di calcio, è fatta anche di ben altro fortunatamente, c'è chi avrà questa fortuna, chi non ce l'avrà, ma io dico sempre che l'importante è dare sempre tutto, perché uno non deve avere mai rimorsi nei rimpianti. Questo torneo nasce e presenta delle realtà estremamente importanti in ambito nazionale, come palcoscenico calcistico, ma ne presenta altrettanti in ambito dilettantistico, quindi verranno società da tutta Italia, saranno quasi mille atleti e ci saranno tanti ragazzi bravi, ma io mi auguro sempre che dietro a un buon ragazzo, come un profilo sportivo, ci sia sempre un buon ometto, perché qui stiamo parlando di bambini e di ragazzi che hanno una strada troppo lunga davanti a loro. Il torneo sarà anche l'occasione per mettere Teramo al centro dell'attenzione ed offrire la possibilità di scoprire il patrimonio artistico e culturale ad un bacino di potenziali turisti. Inoltre, dalla collaborazione con l'AIPD, nasce l'opportunità di avere artisti come Anastasio e i Bolend, che si esibiranno in un concerto di beneficenza. Tutte le strutture alberghiere della città di Teramo sono state occupate, tranne purtroppo l'hotel Abruzzi perché è in fase di rifacimento e quindi ci siamo dovuti spostare a causa della mole e delle presenze anche verso la costa, c'è stata grandissima disponibilità, in tutte le strutture alberghiere saranno 10 e ci permetteranno in ogni caso di accogliere il migliore dei modi persone che vengono da tutta Italia e possono beneficiare di quello che noi reputiamo una regione favolosa, anche un aspetto turistico, perché ovviamente avete fatto rete con i comuni della costa, con gli alberghi della costa per far conoscere ovviamente il capoluogo di provincia, ma di riflesso anche le bellezze della costa e credo anche della montagna. E non sono poche, quindi noi di questo siamo orgogliosi, siamo terramani, siamo abruzzesi, tutto ciò che riguarda il nostro territorio noi lo presentiamo sempre con molto orgoglio, così come vediamo che quando andiamo in giro gli altri fanno lo stesso per quanto riguarda le loro città, le loro regioni, e questo logicamente è un segno importante di appartenenza. Con Romolo De Baptiste abbiamo cambiato location, anche perché c'è bisogno anche di qualche azienda privata che dà una mano, che mette la benzina nel serbatoio per far partire questa straordinaria macchina. Con Luca e Massimo ho detto, non è solo un evento sportivo, fortunatamente evidenzio io, ma è anche un torneo che mette in vetrina l'aspetto sociale, e con Massimo, visto che gli alberghi toccheranno anche quelli della costa, anche un aspetto turistico, Romolo. Certo, certo. Beh, innanzitutto gli obiettivi diciamo sono tre, sono tre perché sono tre come l'aspetto calcistico, l'aspetto turistico e culturale, e l'aspetto diciamo dello spettacolo e del sociale, quindi l'aspetto calcistico è delineato dalle professioniste e dalle direttantistiche di alto livello, perché io invito tutti a venire a vedere il torneo, ma non perché sarà un torneo veramente bello da vedere, da vedere con squadre di bambini che veramente amano giocare a calcio, amano farlo già da piccolini come piccoli professionisti, quindi sarà bello. L'aspetto turistico sì, senza dubbio, perché le strutture che ospiteranno tutti i partecipanti, gli accompagnatori, quindi i genitori, sono gli alberghi della costa, dell'entroterra, quindi ci sarà una grande affluenza turistica nella nostra città, perché? Perché io credo sempre che oggi questo torneo l'avrei potuto fare in mille altre città con OneFamily Sport, se ho scelto Teramo è perché è la mia città natale, è un primo evento che verrà fatto a Teramo, perché sicuramente già si parla per quell'edizione che dobbiamo organizzare per un altro anno, ad ottobre OneFamily Sport ne organizzerà uno a Casal Nuovo di Napoli, quindi a dicembre prevediamo anche un evento su Roma, ma ripeto, come partenza il percorso ha inizio proprio a Teramo, e a inizio dovrà diventare una data ricorrente quella di questo torneo, quindi non è una data che poi verrà appunto fatta una volta e finito, no, anche perché oggi, ripeto, come dicevamo proprio all'inizio, il ringraziamento più grande va sicuramente ai partner, i partner perché sono quelli che poi ti aiutano a fare le cose bene, magari ad allargare gli orizzonti, quindi a coinvolgere artisti di fama nazionale, a usufruire di aziende che forniscono la diretta delle partite, sono quelli che comunque ti riescono a dare quella marcia in più nell'organizzazione. In questo torneo ci sta sicuramente uno dei contribuenti importanti, sia nello sviluppo che nell'organizzazione, è il comune, il sindaco, l'assessore, quindi sono, anche loro ci hanno dato un grande supporto, e comunque, ripeto, ci sono anche altre aziende che ci aiutano in questa organizzazione, perché il torneo avrà un impegno importante, insomma. Oltre a questo, io dicevo sempre, quando ero piccolo sognavo sempre di viverlo in un torneo a Teramo, c'era noi, io ho vissuto il Cicconi, il Di Fabio, che organizzava il Nepezzano, e poi ho vissuto i tornei, vivo, tutt'oggi i tornei, adesso andiamo con mio figlio con la Bonolis, tra Roma, Napoli, Caserta, Bari. Questo incrocio con realtà diverse, città più importanti, più grandi, e soprattutto, credo sia anche il motivo per far maturare i propri ragazzi, non solo calcisticamente, ma anche incrociandosi con altre realtà. Sì, sarà anche un confronto con diverse realtà, sia sotto l'aspetto sociale, sia sotto l'aspetto del rispetto, dei principi, dei valori, perché prima, ripeto, prima di pensare a un bambino che diventi calciatore, noi dobbiamo pensare che quel bambino diventi uomo, e poi magari calciatore. Quindi l'aspetto culturale, perché appunto stiamo prevedendo anche delle visite guidate con le professioniste e con le direttanti, o comunque mettere a disposizione di tutti i visitatori delle visite presso il Castello della Monica, dell'Anfiteatro Romano, oltre che appunto dello stadio che è vero sì che è di un gestore privato, ma è lo stadio della città di Teramo. Quindi è giusto che magari chi venga possa visitarlo. In quel giorno il Comune ci ha concesso le giornate. Gli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento saranno lo stadio Gaeta Lombodonis, il campo comunale Acquaviva Bonolis Center, il campo comunale Dino Besso, il campo Malatesta e l'Interamnia Sport Village. La struttura è importante perché ti permette di poter sviluppare qualsiasi evento nel miglior modo, quindi dare un'organizzazione corretta. Noi abbiamo fatto un format di 60 squadre, spalmate sulla categoria 14, 12, 11. Le strutture che sono state messe a disposizione dalla Bonolis e dal Comune, oltre all'Interamnia Sport Village per quanto riguarda il 2014, sono di primissimo ordine, perché parliamo di tutte strutture dove sono stati fatti gli interventi importanti. Quindi in ogni caso sicuramente i ragazzi saranno accolti tutti nel miglior modo possibile. Grazie a tutti. Grazie per la visione!